Sirene dalla Germania per Diego Demme. Rumors di mercato rivelano che l'ERTA Berlino avrebbe raggiunto un accordo verbale con il giocatore per un contratto che si estenderebbe fino al 2026, tuttavia c'è ancora da definire l'intesa con il Napoli. Il calcio moderno, in quanto frutto di un mercato caotico e frenetico, è spesso teatro di trattative che sembrano non avere mai fine. E questa vicenda ne è l'ennesima testimonianza. L'ERTA, desideroso di rinforzare la propria rosa, ha messo gli occhi su Demme, ritenendolo un elemento chiave per il proprio progetto sportivo. Ma come spesso accade in questi casi, le negoziazioni sono diventate un intricato labirinto di scambi di dichiarazioni, cifre e clausole contrattuali. L'accordo verbale tra il club tedesco e il centrocampista sembra essere il primo passo verso un futuro differente per Demme. La prospettiva di vestire la maglia dell'ERTA Berlino potrebbe suscitare lui nuovi entusiasmi ed ambizioni. Tuttavia, le strade che portano a una separazione definitiva dal Napoli sono ancora in fase di definizione. Il club partenopeo, noto per la sua fermezza nelle trattative, sembra non essere disposto a lasciare andare le proprie giocature senza una compensazione adeguata. Le parti coinvolte dovranno ancora trovare un punto di incontro che soddisfia entrambe le realtà. Sebbene l'ERTA Berlino si dimostri fiducioso nell'ottenere l'approvazione finale da parte del Napoli, è risaputo che le trattative possono essere imprevedibili e complesse. Il futuro di Diego Demme dipende quindi da cosa si diranno le due squadre, ma è possibile che si trovi una soluzione accomodante già nelle prossime ore.